Numero 23, Luca! Tanto corner battuto sul secondo palo, Cordaz è indeciso se uscire o meno, Cepitelli si trasforma in uomo assist e pesca capito che da centro aria gonfia la rete con un colpo di testa preciso, da uno per i Bari. Cambi nel corso della ripresa, calcio di punizione la mette dentro per l'uomo, Luca, Cepitelli, due gol in sette giorni, aveva già segnato contro Cittadella, decisivo anche quest'oggi. Aldo del Bucca contro l'asco, completato a punto di vista. Scatenato da zero, quando avete partita, abbiamo avuto la ripresa per Cepitelli, che è un po' da ragazzi. C'è lo stacco imperioso di Cepitelli che infila Manfredini, l'ottavo della ripresa, Bari in vantaggio. Scatenato da Purtarri, a Purtarri, a Purtarri, a Purtarri, a Purtarri, a Cepitelli di tesi, questa è la grande difesa del Palermo, le 2 a 0 per i Bari. A Purtarri, a Purtarri. Scatenato da Purtarri. che ribalta il risultato. In 5 minuti il Bari passa dall'1-0 all'1-2, facendo esplodere la gioia dei 600 tifosi che hanno seguito la squadra fino in Umbria. La ripresa propone una carnava che volete.